Si chiama Angry Go 2 ed è il videogioco che è stato creato da Christopher Cantwell che a costui sarebbe il suprematista bianco favigerato perché il suo ruolo nell'ultimo raduno di estrema destra è o meglio sarebbe stato piuttosto determinante Il suo videogioco permetterebbe agli utenti, quindi ai giocatori, di interpretare il ruolo proprio di costui o del compagno di scena appartenente all'estrema destra, il nome di Sean Spencer per andare a salvare il presidente degli stati di America, Donald Trump il quale sarebbe stato ratito da terroristi di sinistra Ovviamente per quanto riguarda questo videogioco c'è da dire che molto sconcerto sarebbe arrivato da parte di molti internauti, quindi da parte di molti fruttori di internet Grazie, il video termina qua Iscrivetevi se vi va, commentate, datemi la vostra opinione Un chiaro saluto da narratore italiano